Cari colleghi, è un piacere essere qui con voi a ripresentarvi e a spiegarvi meglio come funzionerà IPAM 2017. Il congresso prevede due giornate, una prima giornata in cui avremo una importante presenza russa di tutti i speaker russi di altissimo livello che ci daranno la loro esperienza. Il programma è un programma molto completo, partirà la mattina piuttosto presto e abbiamo l'esperienza russa, parte con Yves Saban che viene da Nizza come sapete che ci parlerà dei suoi dettagli anatomici per i trattamenti, dopodiché tratteremo dall'area periorale sino al bordo mandibolare e sentiremo qual è l'esperienza di autori russi molto importanti. Reznik, Atamanov, Kubalaze, Sanchez, Orlova, dottoressa Kubanova, Natalia Manturova che è uno dei principali speaker russi. Tutti questi autori, ma adesso non vorrei dimenticarne qualcuno, anche loro tutti estremamente importanti, ci daranno la loro opinione su questi trattamenti. Vi ricordo che esiste la traduzione simultanea russo-italiano per cui tutti gli amici italiani potranno assistere, compreso nella iscrizione al congresso, potranno assistere alla sessione russa. Vi ringrazio e spero di vedervi quanto prima al congresso. Ciao a tutti.